benvenuti benvenuti che amici siamo in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like oggi andremo a vedere un tutorial ok su come funziona binance quindi tutto per voi naturalmente vi ricordo che potete iscrivervi a binance attraverso il referral link che trovate sotto in descrizione e per cui ora andiamo a vedere quelle che sono le principali funzioni innanzitutto voi trovate qui su wallet ok ve la metto in italiano io utilizzo naturalmente la lingua inglese perché mi trovo meglio sinceramente perché ragiono sempre in dollari ok nei confronti bitcoin e quindi mi risulta molto ma molto più semplice proprio a livello di ragionamento mentale però mettiamo in italiano per i nostri appunto amici italiani iscritti al canale innanzitutto su wallet che significa portafoglio potete fare o panoramica del portafoglio cioè vi dirà le monete che avete sostanzialmente e naturalmente ci sarà una rappresentazione a torta ora ve la mostro ok vedrete le monete che ho che in questo caso io alfa scusate alfa qui e ho un fai e oppure i bimbi vedete ci dà il saldo che abbiamo qui naturalmente questo è solo uno dei portafogli che io vi sembrano numeri molto grandi ma in realtà non lo sono qui abbiamo spot dopodiché oggi vi dirò le cose essenziali poi andiamo su ora mi sta caricando la pagina wallet spot qui potete fare sia depositi che prelievi allora come si fa un deposito si clicca su deposita e qua potete depositare sia delle monete da un altro exchange o dal vostro hard wallet per esempio se noi vogliamo depositare bitcoin selezioniamo bitcoin inseriremo dal mandante quindi al sito mandante questo codice che possiamo qui copiarlo e lo invieremo dall'altro exchange o hard wallet e ci arriverà su binance naturalmente possiamo anche depositare monete fiat quindi euro o dollari naturalmente questo ci serve quando dobbiamo effettuare un pagamento quindi inseriremo qui tra l'altro lo trovate anche all'interno del video come effettuare un bonifico su binance questo vi serve a effettuare i bonifici tra le tre cose ok ora io non vorrei non vorrei tra virgolette incasinarvi se mi passate il termine vi elenco quelle che sono le principali ok funzionalità se no questo video diverrà veramente lungo allora per quanto riguarda gli ordini se io ho comprato delle coin naturalmente come faccio a sapere a che valore le ho comprate per sapere il valore a cui le ho comprate andiamo su ordine spot poi andiamo su storico degli ordini ora mi sta caricando ma troveremo ok tutti i prezzi a cui abbiamo comprato ok e le quantità per esempio io ho comprato che ne so abbiamo qui anfi a 543 non so ho comprato anfi a 435 e così via naturalmente l'ho comprato anche prima ma vabbè questi sono solo degli appunti bene dopodiché andiamo a vedere altre cose che possono essere utili allora cose che sicuramente vi possono essere utili come si compra una coin su 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 binance allora per comprare una coin su binance sostanzialmente noi che ne so vogliamo comprare bitcoin inseriamo btc normalmente su dollaro ok e ci verrà fuori grafico del bitcoin sul dollaro come si compra si compra in questo modo io ora come vedete qui ho 0 dollari ok però se voglio comprare allora se io seleziono limite vado posso mettere il prezzo a cui voglio comprare bitcoin per cui ad esempio 20 voglio comprare a 20.000 dollari 20.000 dollari non so voglio comprare un bitcoin ok ora me non dà il valore ok voglio comprare un bitcoin vedete qua che mi dà il prezzo in dollari che sono 20.000 ok se invece voglio comprare il prezzo di mercato cioè ora siamo a 19.080 dollari se lo voglio comprare il prezzo di mercato ok faccio questo cioè qua mi darà mercato cioè il prezzo che attualmente lo compro seleziono la quantità e faccio compra btc e me lo comprerà in automatico per vendere sarà la stessa cosa poi naturalmente possiamo porre uno stop limit cioè possiamo inserire appunto limite e la quantità di bitcoin fatto questo tra le cose più importanti secondo me poi naturalmente c'è oltre al bonifico che naturalmente potete fare anche i derivati secondo me sono interessanti naturalmente vi sconsiglio l'utilizzo delle leve però per i più esperti se volete utilizzare la leva molto semplice dovete innanzitutto portare allora sostanzialmente ci sono due conti ok c'è un conto che riguarda binance sostanzialmente mentre quando utilizzate la leva dovete trasportare i soldi dal wallet spot ai future ok in questo caso io non ho dollari però andrete selezionare qua quanti dollari volete se il 25 50 o il 75 100 per cento e cliccate conferma e avrete il conto una volta fatto questo ok nel mio ultimo video avevo utilizzato la leva 53 per però qua potete impostare la leva che volete come vedete come vedete qua 13 25 probabilmente sconsiglio l'uso della leva fate conferma e dopo qua acquistate naturalmente potete acquistare sia il prezzo limite cioè inserendo come abbiamo visto prima o il prezzo di mercato e in più potete fare lo short cioè che cos'è lo short? quando voi giocate a ribasso cioè se selezionate che bitcoin secondo voi scenderà sostanzialmente allora lì voi guadagnate quando bitcoin scende ok? dove naturalmente avete il margin ratio che vi indica come vedete qui se diventa rosso vuol dire che siete molto vicini ad essere liquidati perché più la leva è alta più voi avrete qua un liquid price che è questa cosa qua sotto sostanzialmente vi dice il numerino al quale verrete liquidati ok queste sembrano essere le principali funzioni ora altre funzioni andiamo a vedere che potete naturalmente utilizzare poi naturalmente andremo a vedere anche Anfai che cosa sta facendo ok abbiamo detto ok tra le altre cose che secondo me sono interessanti se andiamo su finanza Binance Earn voi potete anche fare gli staking ok delle monete sostanzialmente in questo momento si sta mettendo a staking Anfai cioè se voi avete dei boost e voi li mettete questi boost in stake andiamo a vedere avrete una rendita in Anfai in questo caso il tasso è del 3.78% all'anno qui è del 4.76% naturalmente venete remunerate in Anfai per cui se Anfai che ora si trova a 7.27% va a crescere ancora naturalmente la renumerazione aumenta se diminuisce i valori in termini assoluto diminuiscono altre cose da vedere quindi abbiamo visto il launchpad di Anfai stessa cosa vale per Hard per Certic che sono sostanzialmente sponsorizzate da Binance naturalmente sono coin a rischio del sottolineo non sono consigli finanziari e ho visto mostrando solamente delle funzioni ok oppure potete mettere semplicemente in stake dei dollari vi danno il 6% all'anno però attenzione al cambio euro-dollaro lo ribadisco se voi siete europei eh vi da il 6% sui dollari ma i dollari nel mentre perdono il 6% del loro valore non è che ci state guadagnando tanto altre cose che vi posso mostrare che mi vengono in mente mi sembra che le cose principali ve le mostrate vorrei un attimo pensarci ehm ok potete anche prendere criptovalute prestiti in criptovalute naturalmente voi date eh come eh collaterale delle vostre criptovalute per cui si vi danno il prestito però se non riuscite a ripagarlo si prendono le vostre cripto eh altre cose per il momento secondo me le basi vi ho dato le basi cioè di come si compra di come si guardano gli ordini e di come eh sostanzialmente si può controllare il proprio portafoglio a questo punto breve analisi su Anfai che molti di voi so che le aspettavano andiamo un po' a vedere perché è successo quello che abbiamo visto nel video di ieri io sostanzialmente prospettavo che come è avvenuto su Alfa come è avvenuto su eh Scarl ci fosse la rottura del massimo che è questo qua se ne andiamo a vederlo c'è stata ok questa rottura e quindi siamo andati che era a 6,60 attualmente il prezzo si trova a 7,24 come vediamo siamo fortemente bull su eh Anfai ok sia qui che anche qui ora ve la faccio vedere meglio però è chiaro che siamo fortemente bull e quindi ora che cosa potrebbe accadere andiamo a vedere su una time frame un po' più più breve che mi sembra doveroso ah naturalmente ci sono stati dei dei forti caricamenti eh a questo punto considerando anche la market cap naturalmente non sono consigli finanziari ci tengo sempre a ribadirlo eh se andiamo a considerare la market cap di di Anfai che in questo momento è di 7 milioni veramente piccola secondo me ci sono ancora eh dei margini ok naturalmente eh potremmo assistere ad uno scarico è inevitabile però almeno sulle sui ultimi sui ultimi minuti siamo eh fortemente bull io di più non vi dico perché eh io naturalmente ho un mio target di prezzo chi mi segue in privato lo sa naturalmente c'è il gruppo premium che cui potete iscrivervi eh darò delle informazioni su quelli che sono i principali eh progetti essenzialmente con Alfa Finance e Anfai mi sono tra virgolette fatto molte pubblicità ora per conoscere i progetti eh dovrete iscrivervi al gruppo premium per cui vi ricordo siate generosi con i like eh iscrivetevi al canale e ci vediamo presto grazie a tutti